25 milioni restano in Piemonte, l'aula ha dato il via libera al DDL 5. Spin off di Comau, la regione è in contatto con il ministero. Totale disponibilità a proseguire la proficua collaborazione. Il presidente Davide Nicco è stato presente al cambio comando scuola allievi carabinieri di Torino. Nuova edizione di Consiglio News. L'aula ha approvato il disegno di legge che consente di trattenere in Piemonte 25 milioni e non trasferirli a Roma. Si tratta del primo provvedimento a cui il Consiglio regionale ha dato il via libera alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Il Consiglio regionale presieduto dal presidente Davide Nicco ha dato il via libera all'unanimità dei votanti, l'opposizione non ha partecipato al voto, al DDL 5 disposizione in materia di assolvimento degli obblighi di finanza pubblica. Presente in aula l'assessore al bilancio Andrea Tronzano. Come ha spiegato nella sua relazione di maggioranza Deborah Biglia, Forza Italia, si tratta del recepimento di un decreto legge nazionale del 9 agosto. L'anno precedente infatti il governo aveva stabilito che le regioni a statuto ordinario partecipassero alla copertura del disavanzo statale e la quota del Piemonte era di 25 milioni di euro. Quest'anno invece Roma ha deciso che le regioni a loro volta in disavanzo possano decidere di trattenere tale somma e iscriverla in un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026. Fabio Isnardi, Partito Democratico, relatore di opposizione, ha sottolineato che si potrebbe chiedere un intervento dei nostri parlamentari per trovare altri metodi magari più antipatici per recuperare i soldi, come quello di far pagare le tasse a chi non ha l'abitudine di pagarle, non chiedere aiuto alle regioni anche perché un piano di rientro ce l'abbiamo e sta funzionando. Completo risanamento dei conti pubblici e potenziamento delle politiche di sviluppo. Questo l'obiettivo indicato dal presidente della Commissione Bilancio, Roberto Ravello, Fratelli d'Italia. Sentiamo le sue parole e quelle dei due vicepresidenti, Deborah Biglia, Forza Italia e Fabio Isnardi, Partito Democratico. Il Piemonte continuiamo a portarlo dove abbiamo promesso lo avremmo portato, cioè verso una situazione di completo risanamento dei conti pubblici. Risanare il bilancio è quello che ti consente di poter spingere il piede sull'acceleratore delle politiche di sviluppo. Con questo ci riferiamo alla manifattura, ci riferiamo al turismo, con una particolare attenzione ai distretti del commercio, con una particolare attenzione ai distretti dell'aerospazio, con una particolare attenzione al patrimonio paesaggistico che può essere sviluppato in termini di attrazione turistica e quindi in termini di volano economico. Ribadiamo la nostra preoccupazione per la situazione finanziaria dell'ente, che è un ente in dissesto finanziario con un piano di rientro molto lungo fino al 2043. Siamo preoccupati e quindi quando un ente è in dissesto è chiaro che ci va un controllo importante perché la regione Piemonte è una regione importante italiana e la regione Piemonte deve tornare a essere una regione di traino dell'Italia. La regione Piemonte ha dimostrato già con la Corte dei Conti di essere virtuosa, quindi rincominciamo con la stessa identica volontà. Le prospettive sono quelle di avere sempre un bilancio sano e poi abbiamo già fatto un grande investimento per il mondo universitario, per costruire nuovi alloggi universitari e si proseguirà mantenendo sempre lo stesso iter anche per i prossimi anni. Lo spin-off di Comauda Stellantis al centro dell'interrogazione che la consigliera Ravinale, Alleanza Verdi Sinistra, ha rivolto all'assessore Chiorino nell'ambito dei question time. La regione è informata del percorso di spin-off di Comauda Stellantis e il governo non intende esercitare il golden power annunciato dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso? Queste le domande poste da Alice Ravinale, Alleanza Verdi Sinistra, all'assessore a lavoro Elena Chiorino. L'occasione è stata la discussione dei primi question time della legislatura presieduti dal consigliere segretario dell'UDP Fabio Carosso. La giunta regionale ha replicato Chiorino non solo è informata ma è in costante contatto con il ministro Urso per lavorare a supporto del mantenimento delle eccellenze del nostro territorio. Lavoriamo per richiamare alle proprie responsabilità Stellantis anche rispetto ai finanziamenti pubblici ricevuti. La Comauda rappresenta un patrimonio industriale di grande valore, non solo per la nostra regione ma per l'intero automotive italiano. La giunta è impegnata per tutelare le eccellenze professionali e industriali per non disperdere le competenze ed evitare la perdita di competitività del nostro territorio. Commemorato l'anniversario della tragedia di Brandizzo Ogni vita persa è una sconfitta per la società. A Brandizzo, 12 mesi fa, il Piemonte è stato sconfitto da un grande dramma in un posto che dovrebbe essere sicuro e protetto ma che purtroppo si è trasformato in teatro di sofferenza e morte. Queste le parole del presidente del consiglio regionale Davide Nicco ricordando la tragedia in cui persero la vita 5 operai falciati da un treno mentre lavoravano in un cantiere di manutenzione. Il 30 agosto, giorno dell'anniversario, il comune di Brandizzo ha ospitato diverse iniziative tra cui la commemorazione davanti al monumento dedicato alle vittime e un convegno a cui ha partecipato in rappresentanza del consiglio regionale del Piemonte la consigliera segretaria Valentina Cera. Il messaggio del consiglio regionale del Piemonte è innanzitutto un messaggio di vicinanza per le famiglie che un anno dopo purtroppo non hanno ancora avuto risposte certe sulla tragedia accaduta sui binari alla stazione di Brandizzo e queste famiglie meritano attenzione, meritano sostegno, meritano giustizia. Il messaggio che ho portato è quello che vuole dire che la sicurezza sul lavoro è e deve essere una priorità per ogni istituzione ad ogni livello. Cambio di comando alla scuola allievi carabinieri di Torino, presente il presidente Davide Nicco. Il presidente del consiglio Davide Nicco ha partecipato insieme ai consiglieri Roberto Ravello, Domenico Rossi, Vittoria Nallo e Sergio Bartoli alla cerimonia di avvicendamento al comando della scuola allievi carabinieri di Torino tra il colonnello Giovanni Spirito che andrà a ricoprire la carica di vicecomandante della legione Piemonte e Valle d'Aosta e il successore, il colonnello Giuseppe Carubia che ha appena lasciato il comando provinciale di Cuneo. L'arma è l'arma, sempre presente sul territorio, quindi riveste per la nostra provincia e la nostra regione un ruolo assolutamente fondamentale, quindi è doveroso esserci per testimoniare la vicinanza delle istituzioni all'arma dei carabinieri. Centinaia i familiari dei giovani allievi carabinieri che hanno affollato il palazzetto Gianni Asti al Parco Ruffini. Oggi si parla di sicurezza come un bisogno che diventa sempre più ampio e quindi anche la missione delle forze di polizia è sempre più impegnativa le forze di polizia hanno bisogno di competenze aggiornate e sempre più diversificate quindi la formazione dei nuovi operatori di polizia, quindi dei nuovi carabinieri diventa un obiettivo strategico importante che l'istituzione non può fallire. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie! Grazie! Grazie!